della squadra inglese, il che probabilmente è piuttosto poco. Qui vediamo Schenghelia, della Dinamo di Tbilisi, squadra che lo scorso anno in Coppa UEFA eliminò il Napoli, che sfiora il gol. Gol che viene invece da parte di Liverpool con un colpo di testa ben azzeccato di Johnson su traversone di McDermott. Il risultato si fissa tutto nel primo tempo. Il Parigio è pressoché immediato ad opera di Civaze, con questo bel diagonale sull'uscita di Clemens. E il gol della vittoria viene proprio allo scadere del primo tempo per il Liverpool. C'è un atterramento di Dolglish pressoché al limite. L'arbitro, il signor Martinez, concede il calcio di punizione che Jimmy Caz, bravo 78, trasforma con questa cannonata. 2-1 per il Liverpool che dovrà difendersi.